ok allora buongiorno a tutti l'obiettivo di oggi è quello di completare il nostro tour di panoramica su quelle che sono le stream api in particolare oggi parleremo di due operazioni terminali un po più complesse che sono le operazioni di reduce e quella di collect abbiamo visto la volta scorsa e vi richiamo velocemente il codice negli esempi della volta scorsa che abbiamo delle operazioni terminali alcune molto semplici ad esempio il for each che è quella che abbiamo utilizzato più spesso perché ci serviva per andare a visualizzare solamente stampare i contenuti abbiamo delle operazioni un po più sofisticate come la max ma c'è anche il find first che hanno sostanzialmente il compito di andare a estrarre un elemento oppure eseguire la stessa operazione su tutti gli elementi a volte quando abbiamo una sequenza di elementi può essere utile non fare delle operazioni così semplici ma andare a prendere gli elementi e combinarli tra di loro quindi come possiamo farlo ci sono due metodi fondamentali vi richiamo velocemente la slide in cui sono elencati che sono reduce e collect reduce che cosa fa sostanzialmente combina elementi tra di loro e genera un nuovo elemento quindi opera su elementi che sono omogenei tra di loro quindi può essere utile come vediamo nel caso abbiamo visto nelle slide per andare ad esempio a caldare il massimo possiamo anche farlo per altre operazioni l'operazione di collect invece è un po più sofisticata e permette di andare a aggiungere quello che noi andiamo a avere alla fine dello stream ricordiamoci che queste sono operazioni terminali quindi prima ci saranno operazioni di filter, di distinct, di sort eccetera alla fine abbiamo degli elementi e li inseriamo in quello che è un contenitore quindi raccogliamo dentro un contenitore che può essere qualcosa di molto semplice oppure può essere qualcosa di più complesso come ad esempio una stringa scusate una lista piuttosto che una mappa quindi tornando al nostro caso lo facciamo su un file separato la volta scorsa l'operazione di collect scusate di reduce può essere utilizzata per andare a fare un'operazione molto molto semplice che è quella di prendere due elementi tra di loro omogenei e combinarli in un altro elemento che è di nuovo omogeneo immaginando di avere le nostre parole di una canzone quello che possiamo fare è andare a fare un'operazione di reduce che ad esempio date due stringhe che corrispondono a due parole le combina e ottiene un'unica stringa che è ad esempio la concatenazione delle due per cui quello che possiamo fare è andare a prendere come al solito il nostro stream of parole stream non è importato in questo file quindi lo importo non vado a fare nessuna operazione particolare e la prima operazione che faccio è fare un'operazione di reduce vedete che reduce ha sostanzialmente due varianti in realtà la terza è un po' più generale la reduce che cosa fa? prende nella versione più semplice prende due elementi e li combina tra di loro ovviamente deve partire da un elemento iniziale e quello è o il primo elemento dello stream se non diciamo nulla oppure quello che noi andiamo a specificare quindi consideriamo il caso più semplice abbiamo quello che è un accumulatore abbiamo due elementi quindi e1, e2 queste sono delle stringhe ok aspettate metto il pieno schermo adesso dovrebbe essere tornato ok scusate c'è interferenza tra i due schermi quello su cui ho la virtual class insomma è l'altro su che vi proietto e quindi ok mettendolo a pieno schermo forse funziona quindi ricapitolo andiamo ad avere due elementi e1 e2 che vengono combinati quindi la reduce opera a coppie e1 e2 sono due elementi e1 è tutto quello che abbiamo prima e2 è il nuovo elemento quindi se volete invece di chiamarli e1 e2 qui potremmo chiamarlo diciamo risultato intermedio ok è un po' lungo come il nome di una variabile e e2 lo chiamiamo elemento che cosa dobbiamo andare a fare? prendiamo risultato intermedio prendiamo l'elemento e li combiniamo assieme ok come facciamo? beh diciamo che la cosa più semplice è andare a dire risultato intermedio visto che stiamo parlando di stringhe più spazio più elemento alla fine a forza di andare a concatenare gli elementi avrò un'unica stringa quindi string risultato uguale a questa cosa qua in realtà esattamente come per gli operatori terminali che abbiamo visto le volte scorse quella non è esattamente una stringa ma è un optional di string perché come al solito il codice che è fornito dall'API è il più generico possibile quindi deve tenere presente deve tenere in considerazione anche il caso in cui non ci siano elementi nel nostro stream e quindi restituendo un optional ci permette di andare a distinguere il caso senza dover restituire null quindi quello che diciamo così nelle vecchie versioni Java prima della Java 8 in cui è stato introdotto la classe optional prima si restituiva un null in caso di assenza di elementi diciamo che da Java 8 le nuove API restituiscono un optional quindi a questo punto abbiamo un optional e quindi possiamo fare un get se noi siamo sicuri che ci sia qualcosa oppure usare il metodo or else che ci restituisce il contenuto dell'optional oppure quello che passiamo come parametro nel caso in cui l'optional sia vuoto per cui diciamo che in questo caso potremmo dire nessuna parola e quindi abbiamo il risultato a questo punto facciamo che fare una stampa anzi faccio una cosa che forse non abbiamo ancora visto posso fare un import static java.lang.system punto asterisco ovvero vado a importare tutti gli elementi statici che si trovano nella classe java.lang.system per cui invece di scrivere system.out posso scrivere semplicemente out.println risultato questo punto proviamo ad eseguire e andiamo a vedere se ok vede che ho tutto il testo concatenato una possibile variante del nostro meccanismo di reduce è quello di partire non combinando il primo e il secondo elemento quindi considerando come risultato intermedio il primo elemento domanda perché posso chiamare system.out se il nome completo è java.lang.system perché tutte le classi che si trovano in java.lang sono automaticamente importate sono quelle fondamentali come ad esempio system string eccetera quindi per quelle non è mai necessario fare un import java.lang ok chi ha progettato java ha pensato che fosse più semplice per scrivere un programma minimale in cui non è necessario importare tanti package e di fare automaticamente l'import di java.lang allora stavo dicendo invece di fare un reduce di questo tipo in cui prendo i primi due elementi li combino e poi vado avanti di questo passo quello che posso fare è fare un'operazione di reduce con quello che si chiama l'elemento iniziale per cui qui posso andare ad esempio a mettere testo due punti quindi l'elemento di partenza sarà questo e poi di volta in volta andremo inizialmente sarà questo andremo ad combinare ad accumulare un elemento in questo caso vedete che reduce non restituisce più un optional ve lo metto qua sopra così lo vedete ma ben si restituisce una stringa perché nel caso in cui ci sia non sia presente nessun elemento nello stream il risultato è comunque questo valore iniziale quindi in questo caso il mio or else non è necessario perché restituisce una stringa comunque è possibile avere qualcosa quindi se andiamo ad eseguire questo vedete che è esattamente come prima però c'è testo davanti domanda come avremmo potuto utilizzare uno string buffer non avremmo potuto utilizzarlo con la reduce ma potremmo utilizzarlo con l'operazione di collect ok perché reduce presuppone di avere degli elementi che siano uniformi tra di loro per cui non vado a mettere dentro un oggetto ad esempio lo string buffer ma bensì vado a fare un'operazione di combinazione di elementi omogenei altro caso vogliamo sapere complessivamente quanti caratteri ci sono all'interno della nostra della nostra canzone togliendo ovviamente gli spazi separatori quello che possiamo fare è andare a fare uno stream of parole possiamo fare un map di parola parola appunto length oppure avrei potuto utilizzare il method reference a questo punto posso fare un reduce devo fare un'operazione binaria in cui vado a sommare le lunghezze ok quindi vado a prendere il valore intermedio vado a prendere il nuovo elemento e vado a restituire valore intermedio più più e a questo punto esattamente come prima questo mi restituisce un optional di integer per cui devo fare un punto or else e qui ad esempio potrei restituire meno uno come valore nel caso in cui il nostro stream non contenga elementi quindi int tri e poi vado a fare un auto punto print ln del nostro carattere ovviamente ho sbagliato perché devo mettere qua un uguale per cui abbiamo 1110 caratteri domanda reduce è una funzione unbounded allora reduce di per sé non è definita come una funzione unbounded ma bounded perché si porta dietro a ogni iterazione un unico riferimento ok le stringhe che io avevo prima vengono eliminate poi sì è vero che all'interno della stringa la stringa avrà dimensioni più grandi ma per come viene calcolato per come si definisce unbounded in questo caso io mi porto dietro un'unica variabile di volta in volta e quindi quella variabile è sostanzialmente limitata ok quindi questo in termini di definizione poi effettivamente nel caso in cui io faccia una somma che è il caso comune è ovvio che l'area di memoria la quantità di memoria che io utilizzo è esattamente la stessa non cambia assolutamente nel caso precedente in cui io abbia utilizzato la concatenazione tra stringhe beh allora in quel caso oggettivamente forse è unbounded solo di nome ma di fatto no perché nella stringa vado ad aggiungere degli elementi quindi qual è il vantaggio di utilizzare un'operazione di reduce è il vantaggio che io posso andare a fare le operazioni ad esempio in parallelo quindi posso dividere il mio stream in 2 3 10 12 15 diversi stream paralleli andare per ognuno a fare l'operazione di reduce e alla fine aggrupparli a coppie ottenendo un risultato finale quindi è parallelizzabile in questa versione magari è un po' limitato però il concetto di reduce in cui io prendo due elementi li combino di volta in volta è molto potente un pochettino più sofisticato dell'operazione di reduce c'è l'operazione che viene chiamata di di collect l'operazione di collect che cosa fa è tutto sommato analoga all'operazione che noi facciamo con la reduce solo che invece di andare a mettere a operare solo con oggetti omogenei ha un oggetto che possiamo chiamare contenitore o accumulatore in cui io vado a mettere dentro gli elementi quindi immaginiamo di fare la stessa operazione che abbiamo fatto prima con con la concatenazione di stringhe come funziona in questo caso parto dello stesso punto di prima quindi vado a calcolare un risultato in questo caso abbiamo detto con la collect parto dello stesso punto di prima domanda la parallelizzazione viene fatta solo se si specifica parallel sì io qui non ho nessuna parallelizzazione normalmente perché gli stream che vengono definiti normalmente sono degli stream normali sequenziali se io qui vado a mettere parallel allora quello viene considerato uno stream parallelo allora c'è la possibilità di parallelizzare attenzione attenzione non è detto che se io metto parallel di fatto poi avvenga una una parallelizzazione dipende un po' dallo stream e da alcune sue caratteristiche ok però non entrai troppo nel dettaglio su questi aspetti perché sono sono un po' più complicati un po' esulano da darvi un'introduzione a questi a questi API però diciamo che senza quello non tendenzialmente non viene fatta nessuna parallelizzazione quello che voglio fare a questo punto è utilizzare il metodo collect collect vedete ha due varianti una in cui ho un oggetto collettore l'altra in cui io passo gli elementi base che possono essere utilizzati per andare a costruire un collettore in particolare cosa vado a definire vado a definire quello che è un supplier ovvero un oggetto a cui vado a chiedere di costruirmi l'elemento in cui vado ad accumulare quindi il contenitore o accumulatore un buy consumer ovvero un oggetto a cui passo il mio oggetto accumulatore e il prossimo elemento e che sostanzialmente va ad accumulare dentro il mio contenitore e infine un buy consumer che prende due oggetti di tipo contenitore e li combina quindi sostanzialmente immaginiamo di voler utilizzare uno string buffer esattamente come era stato suggerito prima nella nella chat quello che posso fare è andare a definire il mio supplier come string puff due punti due punti new fatemi fare così e poi alla fine facciamo un toString e così abbiamo la string alla fine allora questo abbiamo detto è il supplier ovvero quello che viene chiamato per costruire il contenitore in cui vado a fare l'accumulazione perché viene fornito un supplier e non viene fornito invece direttamente un oggetto stream buffer perché e qui mi ricollego a quello che dicevamo nell'ultima lezione gli stream sono pensati per funzionare in maniera pigra lazy per cui l'oggetto contenitore non viene creato all'inizio ma viene creato soltanto quando effettivamente è necessario ovvero all'ultimo minuto per cui fornendo un supplier l'idea è quando lo stream ha bisogno di quel oggetto supplier ecco allora di quell'oggetto contenitore allora chiama il supplier e se lo fa creare in modo da ritardare e di posticipare queste chiamate che sono potenzialmente più pesanti nel caso lo stream buffer non è così nel senso che è un oggetto molto semplice però in generale il principio è ritardo all'ultimo tutto quello che posso fare la lazy evaluation il secondo elemento che passo è un oggetto che mi permette che è un oggetto funzionale che sostanzialmente è quello a cui chiedo di andare a prendere il contenitore il prossimo elemento e di metterli assieme ed è quello che si chiama l'accumulator l'accumulator avrà due parametri che sono lo stream buffer che abbiamo creato utilizzando il supplier di sopra e un elemento che io chiamo qui P perché abbiamo detto che sono parole e che cosa facciamo? Prendiamo lo stream buffer e facciamo un append di uno spazio e poi facciamo un append della nostra parola P e terzo elemento che dobbiamo fornire al nostro metodo collector per andare a costruire il collettore è quello che si chiama il combiner di nuovo qui andiamo a considerare l'eventualità in cui il collettore possa essere eseguito in parallelo il combiner che cosa fa? immaginando di avere più stream paralleli in cui in maniera indipendente e quindi su oggetti stream buffer indipendenti viene fatta un'operazione di accumulazione alla fine cosa faccio? Devo andare a combinarli in uno quindi il combiner cosa fa? Passa due oggetti e chiede di combinare il secondo all'interno del primo quindi ho uno stream buffer uno uno stream buffer due e l'operazione che facciamo qua è andare a dire sb1 punto appende sb2 cioè vado a prendere lo stream buffer 2 e lo metto in coda allo stream buffer 1 in realtà volendo essere omogenei con quello che abbiamo fatto prima dovrebbe esserci un appende di spazio e poi dell'altro stream buffer questo abbiamo detto è l'accumulator accumula elementi nel ingrandisco questo così magari ci starà scritta abbiamo detto accumula elementi nel contenitore e questo è il combiner che combina due contenitori ovviamente il combiner nel caso in cui il nostro stream non sia parallelo ovvero non vengono usati due o più stream buffer contemporaneamente non verrà mai chiamato domanda è opzionale quindi il combiner allora potrebbe essere opzionale ma in realtà nelle chiamate nella definizione dei metodi delle stream API il combiner dobbiamo sempre andare a fornirlo perché forse è esagerato però in questo modo il compilatore garantisce che se io vado a mettere qui un parallel dopo che ho definito il collettore tutto funzioni correttamente quindi l'idea è io considero un collettore completo soltanto se anche il combiner e che quindi è in grado di operare anche con degli stream paralleli in modo da poi andare a ricombinare assieme i risultati quindi è un'operazione di sicurezza per cui io devo comunque sempre definire il combiner anche se so già in partenza che non verrà mai utilizzato tenete presente che nella peggiore delle ipotesi io potrei andare a mettere invece di fare questo potrei mettere lo scrivo qua sotto fare questa operazione così qua ovvero andare a mettere un combiner vuoto attenzione non posso passare null perché altrimenti il metodo collect mi dà un errore ok quindi torniamo alla versione corretta domanda non mi è chiaro come le lambda dell'accumulator del combiner riconoscono già di per sé i tipi di parametri senza specificazione allora questo è il bello della type inference in java perché allora io qui stream of questo è uno stream di string ok quindi questo il tipo è uguale a scusate uguale a stream di string quindi questo collettore dovrà andare a avere questo che sarà una stringa perché per definizione gli elementi sono delle stringhe e il primo elemento ovviamente non lo sa però lo deduce da quello che è il primo parametro il primo parametro cosa fa restituisce il tipo di questo è ve lo scrivo qua sotto il tipo è uguale a string buffer di conseguenza il tipo del primo elemento verrà utilizzato per capire qual è il tipo di sb qual è il tipo di sb1 e qual è il tipo di sb2 questo lo fa il compilatore in automatico ovviamente io posso anche andare a scrivere il tutto in maniera esplicita quindi andare a scrivere ad esempio streambuffer in realtà è poco utile però qui potrei andare a scrivere streambuffer string streambuffer sb1 e streambuffer sb2 quindi in questo caso l'ho scritto esplicitamente qui ho sfruttato la type inference del compilatore che quindi è in grado di andare a capire quali sono i tipi attenzione con la type inference perché alcune volte il nostro compilatore non è in grado di farla correttamente ok quindi fate attenzione e in alcuni casi vi viene segnalato un errore ecco l'errore probabilmente è dovuto al fatto che il compilatore non è riuscito a fare la type inference per limiti suoi quindi in quel caso come potete ovviare potete andare a mettere direttamente il tipo voi e a questo punto invece di avvalervi della type inference nel compilatore siete voi a dire quello ha quel tipo e quindi il compilatore tendenzialmente poi lo riconosce e riesce a ricostruire tutte le cose e verificare che i tipi siano congruenti tra di loro a questo punto giusto per verificare che il risultato sia corretto out println risultato stampiamo qua quindi se eseguiamo il nostro codice il collector ci produce esattamente lo stesso output che c'era prima vedete che praticamente sono gli stessi che avevamo sopra e quindi il risultato è praticamente lo stesso c'è uno spazio in più perché io qua comunque aggiungo sempre uno spazio davanti volendo qui potrei farlo in maniera un po' più complicata e quindi fare un append soltanto se il nostro stream buffer contiene già qualcosa quello sotto è assolutamente analogo semplicemente cambia la parte a livello di compilazione in cui andiamo a definire noi i tipi invece di lasciarli inferire automaticamente dal nostro compilatore altro esempio di uso del collettore è quello in cui ad esempio invece di andare a mettere dentro una stringa che è un catenare per dire possiamo andare a prendere il nostro stream di parole e andare ad aggiungerle all'interno di una lista quindi in questo caso faccio un collect new scusate linked list due punti due punti new questo abbiamo detto è il supplier che mi costruisce il contenitore in cui andare ad accumulare devo andare a mettere poi l'accumulatore che prende la lista prende l'elemento e va a fare un l.add dell'elemento e poi abbiamo il combiner in cui abbiamo una lista una seconda lista e andiamo a fare l1.add all di l2 il risultato in questo caso è una lista linked list non è riconosciuto perché non l'abbiamo ancora importato lo faccio ora il risultato sarà una linked list words uguale e ovviamente se andiamo a stampare out print ln le nostre parole dovremmo ottenere esattamente le parole di prima ok però all'interno di una lista quindi vedete che abbiamo vabbè una stringa vuota all'inizio e poi tutte le parole dentro una lista ok abbiamo già visto più volte che quando stampiamo una lista viene racchiuso tutto tre quadri e quindi abbiamo il contenuto della nostra lista ora è ovvio che in questo caso è banale nel senso che ho un array avrei potuto aggiungerlo molto più facilmente all'interno di una lista potrei in casi più generali avere varie operazioni di trasformazioni quindi delle map ve lo scrivo qua ad esempio immaginiamo di voler andare ad aggiungere tutte le parole che stanno all'interno della nostra lista scusate questa era ridefinita immaginiamo di volerle andare ad aggiungere non così come sono ma bensì facendo un'operazione di map string due punti due punti to uppercase quindi le metto in maiuscolo poi le ordino e questo punto le vado a mettere all'interno della mia lista è complicato cioè è più complicato di quello che uno potrebbe aspettarsi dover andare a scrivere quelle tre righe per fare l'aggiunta all'interno di una lista per questo motivo quello che è possibile fare scusate adesso stampo in modo da verificare che tutto sia ok vedete che a questo punto ho tutto ordinato e maiuscolo e maiuscolo domanda ma avere il combiner non vanifica il sorted allora il combiner scritto così no perché comunque allora scusate ma ho un ritorno molto molto lento fatemi solo controllare cosa c'è che non va perché il mio computer è lentissimo allora un attimo allora riprendo il discorso sperando che ok Allora, la webcam non so se funziona Allora, spero che mi sentiate e forse anche mi vediate Rispondo alle domande che c'erano in chat Quindi abbiamo detto, prima domanda In caso di parallelizzazione, questa operazione di combiner Non vanifica tutto, non vanifica il sorted in particolare Allora, no, perché normalmente gli stream vengono considerati ordinati Per cui, che cosa succede? Non è che lo stream viene diviso un elemento da una parte e uno dall'altra Viene diviso a metà, quindi la prima metà va a finire a un collettore E la seconda metà va a finire al secondo collettore E quando li combino, combino il collettore che ha raccolto la prima metà Col collettore che ha raccolto la seconda metà Per cui l'ordine viene preservato Allora, domanda Si può fare l'inserzione in lista utilizzando invece del collettore un foreach Con una L creata in precedenza Si, allora Sicuramente quello che posso fare è avere una linked list LW uguale new linked list Poi vado a prendere il mio stream Lo compatto un attimo E posso fare un foreach E poi lista, scusate Elemento, freccia LW.add elemento Anzi, chiamiamolo P Visto che abbiamo chiamato sempre P le nostre parole Questo alla fin fine è equivalente a quanto sta sopra Però questo è abbastanza poco efficiente E soprattutto rispetto al collettore di qui sopra Nel caso di parallelismo non garantisce che gli elementi vengano aggiunti in ordine Però se abbiamo uno string semplice Non ci interessa particolarmente l'ordine Questo è sostanzialmente equivalente all'altro Stavo dicendo È abbastanza complicato scrivere tutta questa cosa Per questo motivo In realtà Le API di Java ci forniscono una serie di collettori predefiniti Che ci permettono di fare Quelle operazioni di Inserimento nei contenitori standard Quelli definiti dalle classi Del framework delle collezioni In maniera molto compatta e semplice Questo lo possiamo fare Andando a Utilizzare Dei metodi che sono definiti dentro una classe Che si chiama collections Quindi Quello che posso fare è Partendo dal mio stream Di prima Fare Collect E invece di andare a scrivere io Supplier Combiner E accumulator Andare a chiamare un metodo Che sta in collectors Che si chiama To list Questo che cosa fa? Mi costruisce un collettore Che contiene Già tutti quegli elementi Esattamente analoghi a quelli che abbiamo scritto qua sopra Solo che Evita a me Di riscrivermi tutte le volte Un pezzettino Uguale a quello precedente Quindi a questo punto Scusate Il punto e virgola va a finire qua Collectors Scusate Probabilmente non è stato importato Infatti Allora Scusate Ho fatto una stupidaggine Ovvero ho chiamato Collectors Questa classe Fatemela rinominare in Esempi Collectors A questo punto Qui Utilizziamo la classe Che si chiama Collectors Che si trova In Java Util stream La vado a importare Ok E a questo punto Ottengo sostanzialmente La stessa cosa Quindi posso scrivere Words Uguale Words In realtà È una Linked list Mentre invece Il metodo Questo collettore Mi restituisce una lista Quindi devo chiamare la lista Di string Chiamiamola L Uguale Dove List ovviamente Deve essere importata Quindi vedete che Nel caso in cui Io abbia La necessità Di Fare Un'operazione Di Raccolta In una lista Lo posso scrivere In maniera Molto compatta Molto più compatta Rispetto a quello Che Avevo qua Tra i collettori Predefiniti Vi richiamo un attimo La slide Che avevamo visto Prima Riapro Le slide Con quella parte Lì Così ve li Riepilogo Quindi abbiamo detto I collettori Predefiniti Almeno Quelli principali Di base Sono questi Per cui abbiamo Il Collettore ToList Che abbiamo appena visto C'è un collettore Che si chiama ToSet Che mi va a mettere Tutto dentro Un set C'è un collettore Che si chiama ToCollection In cui io vado a fornire Un supplier Che mi costruisce La collezione In cui andare a fare L'accumulazione E poi c'è un joining Che sostanzialmente Mi concatena le stringhe Quindi Quell'operazione Che avevamo fatto Con lo string buffer La possiamo fare Tranquillamente Con il joining Quindi Tornando Alla nostra Raccolta Questa operazione In cui vado a calcolare Il risultato Delle parole Che stanno Assieme Invece di farlo così Lo posso fare Copio Il primo pezzettino Così Punto Collect Collectors Punto Joining Ok? Decisamente più compatto Altra cosa Che posso fare Collectors Invece di importarlo Come ho fatto prima Posso fare Un Import Static Java Util Stream Collectors Punto Asterisco In questo modo Tutti i metodi Statici Che si trovano Dentro La classe Collectors Sono visibili Direttamente E quindi Invece di scrivere Collectors Punto Toolist Posso scrivere Semplicemente Toolist E invece di scrivere Collectors Punto Joining Posso scrivere Semplicemente Joining Quindi Molto più Compatto Rispetto A quanto Abbiamo visto Prima Allora Domanda Ma con il Tool Collection Potremmo ottenere Direttamente Una Linked List Sì O un set O un Tremap Sui metodi Toolist Usate Quello che Ho qua Il metodo Toolist Non mi dice nulla Sul tipo Di Lista Ok Mi restituisce Un oggetto Che implementa List Però Non ho nessuna garanzia Che quello sia Una Linked List Un Array List Oppure un altro Tipo Anzi di solito Un altro Tipo Se io voglio Essere sicuro Di avere Una Linked List Quello che posso Fare è Per l'appunto Allora Fatemi scrivere Solo un commento Qua Per concatenare In Una Stringa Per Accumulare In Un Contenitore Specifico Quello che posso Fare Abbiamo detto Che words Era una Linked List Uguale Stream Of Parole Punto Collector Qui vado a mettere To Collection E qui dentro posso andare a scrivere Linked List Due punti Due punti New In questo caso Funziona Perché Il risultato Del collettore Quindi L'oggetto In cui vado ad accumulare E per l'appunto Quello che viene fornito A questo supplier Che è una Linked List Se noi vogliamo avere Un'altra classe Che invece di D'essere una Linked List È un Triset Una Priority Queue O quello che volete Lo mettiamo qua dentro E automaticamente abbiamo Un'accumulazione Dentro Quel tipo di Collezione L'accumulazione Funziona benissimo In tutti i casi Perché tanto Va a sfruttare Come vediamo qua sopra Il metodo Add Che c'è per tutte le collezioni E poi il metodo AddAll Che di nuovo È presente Per tutte le collezioni Ok? Quindi qualunque tipo di Collezione Vado a mettere lì dentro Funziona Perché tanto tutte Implementano l'interfaccia Collection Domanda A joining Posso passare qualcosa Da mettere tra le parole? Sì Quando io ho joining In realtà Aspettate Vediamo Se me lo fa fare così Ok Vedete che ho tre varianti Quella senza parametri Quindi Semplicemente Concateno uno con l'altro Quella che ha Un delimitatore C'è Il carattere Che io metto assieme E ce n'è Una terza variante Che oltre ad avere Il delimitatore Ha anche un prefisso Un suffisso Per cui Se io voglio farlo Esattamente come prima Qui Devo andare a mettere Uno spazio Uno spazio così Ok Questo è A questo punto Equivalente Alla variante Che abbiamo scritto Poco sopra Non questa Ma questa qui Che utilizza Lo streambuff Ve lo riporto Un attimo sotto Così apprezziamo La differenza E questo è Sostanzialmente Equivalente A Questo Fatemi solo Togliere i commenti Così è un po' Più chiaro Ok Quindi In una riga Corta Vado a scrivere Quello che qui Avevo scritto In Sostanzialmente Quattro righe Molto più compatto In più Posso andare a mettere Un qualcosa Da mettere All'inizio Un qualcosa Da mettere Alla fine Eccetera Posso riprendere Istruzione AddAll Allora L'istruzione AddAll Che è quella Che abbiamo Utilizzato qua È un metodo Che è definito Qui lo vediamo Sul LinkedList Ma in realtà È definito All'interno di AddAll InCollection Ecco questa è la definizione Che è definita È definita nella classe Collection E quindi Implementata Da tutte le classi È stata definita Nell'interfaccia Collection E quindi Implementata Da tutte le classi Che implementano Quell'interfaccia Direttamente Gli aggiungo Predefinite Che sono Questi due Che adesso vi mostro Eccoli qua Il grouping by E il partitioning by Allora Vi dico nulla Sul partitioning by Perché è un caso Particolare Del grouping by Il grouping by Che cosa fa? Sostanzialmente Il grouping by Riceve come parametro Allora Nella versione più semplice Perché poi ci sono Diverse varianti Riceve una funzione Che Prende Un elemento Di tipo t L'elemento Il tipo degli elementi Dell'array E Mi restituisce Un oggetto Di tipo k Questa funzione È un classificatore Perché sostanzialmente Va a prendere L'elemento Mi dice Qual è la chiave Associata a Quell'elemento E Come risultato Mi va A costruire Una mappa In cui Le chiavi Sono quelle Generate da Questo classificatore E I valori Quindi tutti gli elementi Vengono Accodati A delle liste Che sono Messe come valori Della nostra mappa Quindi È una mappa Che ha Come chiave Quanto è stato Il classificatore E come valori Delle liste Queste liste Contengono Tutti gli elementi Che stanno Che sono associati A quella chiave Vediamolo Un po' più Specificatamente All'interno Di un esempio Domanda Nel caso di To collection Il tipo di ritorno Del tipo collection No Nel caso di Un to collection Lo vediamo In questo esempio Qua L'ultimo Che vi avevo scritto Il tipo di ritorno È esattamente Il tipo Della collezione Che io ho specificato Come supplier Quindi Questo Mi darà Come risultato Una linked list Veniamo a parlare Del grouping by Allora Abbiamo detto Abbiamo uno stream Per ogni elemento Dello stream Andiamo a estrarre Una chiave E questa chiave E questa chiave Ci permette di andare A creare una mappa Dove La chiave È per l'appunto Questa E il valore Associato alla chiave È una lista Con tutti gli elementi Che hanno quella chiave Ad esempio Volessimo andare A raggruppare Le parole Per lettera iniziale Quello che potremmo fare È Partire dal nostro Stream Solito E In questo stream Andare a chiamare Un collect Looping by In cui Vado a estrarre La chiave Andando a prendere La prima lettera Della parola Quindi P Freccia P Punto Char Et Zero Tutto questo Funziona bene Se c'è un carattere zero Vi ricordate Che con quella Su divisione In realtà C'è una stringa Che non ha Caratteri Che ha lunghezza zero E quindi Quello ci darebbe Un'eccezione Per cui Vado a mettere qua Un limit Scusate Non un limit Ma bensì Un Filter Parola Freccia Parola Punto Length Maggiore di zero Il risultato Il risultato di questo Grouping by Che cos'è È una mappa Che associa Il risultato Di questo Che è un Character A che cosa Una lista Degli elementi Presenti All'interno Del nostro stream Che sono Delle stringhe Quindi Per Iniziale È uguale A questo Ovviamente Map Non è stato Importato Quindi Devo andare A importarlo E a questo punto Il tutto È corretto Avete visto Che Eclipse In risposta Al fatto Che map Non era Stato importato E quindi Non sapevo Esattamente Cosa fosse Mi ha segnato Come erroneo Tutta La nostra Espressione Quindi Prima di Preoccuparvi Scrivete Completamente L'espressione Verificate Di aver importato Tutte le Le classi Necessarie Classi Interfacce Necessarie E dopodiché Andate a vedere I risultati Purtroppo Le espressioni Con gli stream Sono un po' Complicate E il rischio Che ci siano Dei Passaggi Che non sono Corretti Quello che vi consiglio È di andare a scrivere Pezzo per pezzo E verificare Che tutto sia corretto E poi aggiungere Un altro pezzo Man mano Che quanto avete scritto Fino a un certo punto Sia È effettivamente Corretto Almeno da un punto di vista Del compilatore Quindi Il risultato A questo punto Sarà una mappa Che associa Un carattere A una lista Di parole Che hanno Quell'iniziale Ok? Iniziale Perché Andiamo a prendere Il carattere Alla posizione 0 Quindi Vado a fare Un out Print Ln E vado a stampare La mia Mappa Per Iniziale Fatemi mettere Un out Un out Appunto Println Qua Andando a scrivere Grouping By Così nell'output È più ordinato E lo vediamo A questo punto Se lancio Il mio programma Quello che ottengo È Lo vediamo qua Allora A Allora A La chiave E poi La lista Con tutti gli elementi Di tipo Con iniziale A B La lista con tutti gli elementi Con iniziale B I Perché I N P S T Dopo la T W E poi A Perché poi ci sono le minuscole Ok Prima ci sono le maiuscole E poi le minuscole A B C E E E E E E E E Quindi Il gruppo Inby Che cosa fa? Prende Sostanzialmente Gli elementi Li suddivide in base alla chiave E poi Per ciascuno di questi gruppi Aggiunge gli elementi A uno stream A una lista In realtà La gruppo Inby Può funzionare In maniera molto più complessa In particolare Posso Uno Andare a Definire Quello che è Il tipo di mappa Che vado a creare Perché qui di nuovo Come nel tool list Io non so che tipo di lista Mi viene creata Con il gruppo Inby Mi viene creata una mappa Ma non so che tipo di mappa Viene fatta Per cui Posso andare a specificare Un certo tipo di mappa L'altra cosa che posso fare È Quella di andare a Specificare Che cosa fare Con tutti gli elementi Che corrispondono A una data chiave Per cui Quello che avviene Normalmente È che Questa scrittura Compatta Che vediamo qua Di fatto È Circa equivalente A una scrittura Un pochettino Più Articolata In cui ho Il primo elemento Che è Non Scusate Non il mapper Ma Il Classifier Ovvero un oggetto In cui vado a chiedere Di classificare In base A una chiave Quindi mi restituisce La chiave O la classe La categoria A cui far corrispondere Quell'elemento Il secondo elemento Il secondo parametro Del gruppo Inby È Un supplier Ovvero un qualcosa Che mi va a creare Un mappa In cui vado a mettere I miei elementi Quindi vado a fare Ad esempio Un tree map Nel caso Precedente Il default È un hash map Hash map Che devo andare A importare Questo è Il supplier Che mi dice Che cosa Creo Cioè Qual è l'oggetto finale In cui vado Ad accumulare Ricordiamoci che I collettori Alla fine Cosa fanno Hanno bisogno Di un oggetto In cui andare Ad accumulare E E poi Vado a definire Quello che è Un'operazione Di downstream Visto che Il grouping by Presuppone Che io vada Ad accumulare Dentro una mappa Mentre la chiave Sostanzialmente È determinata Da questo Quindi Il classic fire Determina Il tipo Della chiave Il tipo Del valore Ricordiamoci che Nella mappa Abbiamo coppie Chiave Valore Il tipo Del valore È determinato Da un qualcosa Che sta qua sotto Attenzione Che Mentre le chiavi Sono semplici Sono univoche I valori Sono tanti Quindi ogni volta Che un elemento Devo andare A accumularlo Quindi ho Quello che si chiama Un accumulatore A valle O meglio Downstream Nel caso Più semplice È un Toolist Ok E qui vado A importare Hashmap Quindi Questa scrittura Grouping by Eccetera Eccetera È assolutamente Equivalente A quest'altra Ovvero Assumiamo che Il contenitore In cui accumulare Sia un Hashmap E Altro Aspetto Assumiamo Che A valle Quindi una volta Che abbiamo fatto La classificazione Gli elementi Vengano Accumulati Utilizzando Il toolist Potremmo fare Un'altra operazione Quindi A valle Invece di andare A mettere tutto In una lista Potrei andare A fare Un'operazione Di joining Quindi Concatenare Le parole Che hanno Quell'iniziale All'interno Di una stringa Quindi In questo caso Abbiamo detto Il risultato È Una mappa Character Lista Di stringa Se io volesse andare A fare Un'altra mappa Con l'elenco Quello che potrei fare È andare A dire Mappa Character Che è l'iniziale E poi invece Di mettere Una lista Vado a mettere Una stringa Ok Per Iniziale Stringa Uguale A questo punto Vado a copiare Quello che ho scritto Sopra E lo adatto Qui Non vado a mettere Un toolist Ma devo mettere Un Joining Quindi Questo Che Scusate Non ve l'ho scritto Sopra Si chiama Il Downstream Ovvero Il collettore A valle Dopo aver fatto La classificazione Quindi trovata La chiave Devo andare A dare Un modo Di prendere Tanti elementi E metterli Tutti Dentro Un valore L'idea È che Ovviamente Non vado A sopra Scrivere I valori Ma Vado Ad accumulare Tutti Gli elementi All'interno Di qualcosa Che diventerà Poi Il valore Questo Abbiamo detto È il Downstream Ovviamente Io qui In joining Posso scrivere Qualunque cosa Ad esempio Posso andare A dire Che Li voglio Concatenare Con Una capo Magari Mettendogli Una tabulazione Voglio Voglio aprirli Con Ad esempio Così In modo Che Se andiamo A stampare Un out Print Ln Per Iniziale STR Tutte le parole Sono riportate Di fianco Alla Nostra Iniziale Con Con un A capo Ovviamente Conviene Mettere Anche Un a capo All'inizio Con una tabulazione In modo che Siano rientrati E poi Alla fine Mettere Un ulteriore A capo In modo che La prossima lettera Compaia Di nuovo A valle Quindi Se non ho sbagliato Nulla Eccolo qua Vedete che ho Invece della stringa A di prima Ho A E poi Ho tutta questa cosa Fino qui Che è il risultato Dell'operazione Di joining La joining Che vediamo Qua sotto Joining In cui ho messo Un a capo E tabulazione All'inizio Un a capo E tabulazione Allora scusate A capo E tabulazione Come Prefisso A capo E tabulazione Come separatore Tra i vari elementi E alla fine Ho qui Un semplice A capo Come Post Fis Post Fisso Alla fine Della concatenazione E quindi ottengo Quest'operazione Domanda Come viene Inizializzato L'HashMap Allora L'HashMap Inizialmente Viene vuoto Come fa a sapere Il tipo Della chiave E dei valori Di nuovo Di nuovo Funziona Da type Inference Ovviamente Io qui Potrei Tranquillamente Andare a mettere Un Invece di questo Andare a mettere Un qualcosa Di questo tipo Dove vado a mettere Map Character Virgola String Quindi un cast Come fa Allora Sostanzialmente Questo è quello Che Il nostro Compilatore Va A dedurre Character Da dove lo deduce Da questo Charet Restituisce Un char Il corrispondente Tipo Wrapper E Character E quindi Ce l'ha da qui Quindi Dal classifier Determina Il tipo Della chiave Ok Che avevo scritto Anche qua String Da dove lo determina Beh Lo determina Dal risultato Di questo Collettore Quindi Il downstream Determina Il Tipo Del Valore Sempre Della Nostra mappa Domanda Non ha problemi Con row type Allora Questo È un row type Effettivamente Quindi è Un tipo Primitivo Senza I parametri Di tipo In pratica Il compilatore Quando io vado A scrivere Una cosa Di quel tipo Fa Il cast Al tipo Corretto Se scrivo Delle espressioni Molto complicate È possibile Che effettivamente Il compilatore Si perda E quindi Non riesca A convertire Il row type Nel tipo Corretto Allora Una possibile Soluzione È andare A scrivere Questo E quindi Andare a dire Esplicitamente Qual è Il tipo Generico Quindi con i parametri Di tipo Anche Character E string Che poi Possono essere Utilizzati Dal compilatore Per fare Tutte le verifiche Di corrispondenza Di tipo Normalmente Il compilatore È in grado Di fare Una inferenza Di tipo A partire Dal Valore Restituito Il collettore Downstream Domanda Joining Lavora Solo sulle Stringhe In realtà Joining Se non Mi sbaglio È in grado Di Operare Ma ve lo Su qualunque Elemento Perché Va a richiamare Il metodo ToString Quindi Se andiamo a prendere Java Util Strim Che siamo qua E andiamo a prendere Non l'interfaccia Ma bensì La classe Collectors Al suo interno Abbiamo vari Elementi Tra cui Il Aspettate che arrivo Qua Il joining Il joining Prevede Che il tipo Dello stream Sia effettivamente Un Char sequence Ovvero Una stringa Sì Quindi dovrei fare Comunque Se io avessi altri tipi Dovrei fare Un'operazione Di map Dal tipo A stringa E poi Applicare Il joining Però Questa è un'operazione Relativamente facile Perché posso utilizzare Sempre ToString Oppure Costruire io Le stringhe Come preferisco Tenete presente Che io Nel downstream Posso andare A fare Quello che voglio Ok Qui ho messo Un join Potrei mettere Un altro Grouping by Oppure potrei mettere Uno qualunque Dei collettori O predefiniti Oppure scritti da me Quindi In generale Domanda Che leggo Dalla chat Il compilatore Capisce le specifiche Del supplier Dal classifier E dal downstream Esattamente Il tipo Effettivo Del supplier Viene dedotto Si chiama Type Inference Quindi Viene fatta Un'inferenza A partire Dal tipo Che c'è Qui Quindi Del classificatore E del downstream E' esattamente L'operazione Di inferenza Che fa il compilatore Come vi dicevo Per il momento Stiamo scrivendo Le espressioni Relativamente Corte E compatte E' possibile Che il compilatore Si perda In questa fase Di Scusate Di inferenza E quindi Siamo noi Che dobbiamo andare Invece di utilizzare Semplicemente Questo Metodo Reference Andare a Specificare Qual è il tipo In modo che Non debba fare Nessuna inferenza Ma siamo noi A dirgli quali sono i tipi Quindi Normalmente Se tutto Va a buon fine La versione più Compatta E utilizzabile Ovviamente Ovviamente In questo caso Se andiamo a vedere L'output Tutte le parole Erano duplicate Quindi quello che Volendo posso fare Qui E mettere Un distinct Quindi andare a dire In questo modo Nella mia Lista Di parole Ogni parola Compare una volta Sola Quindi se ho la stampa Vedete che alla fine Ho Le parole che non sono Ripetute Le parole Come vedete Non sono in ordine Ok Se volessi avere Le parole in ordine Alfabetico Per ogni carattere Oltre a fare Un distinct Dovrei fare Un Sorted Scusate Qui Se salvo E ristampo Ecco In questo caso Vedete che Finalmente Le parole Data Un iniziale Sono tutte In maiuscolo Scusate Sono tutte Ordinate Alfabeticamente Un altro aspetto Che vi facevo notare Prima E che ci sono Prima le maiuscole E poi le minuscole Volendo andare a Classificare Non in base Al carattere effettivo Ma andando a mettere assieme Maiuscole e minuscole Quello che posso fare È Quando vado a fare Qui Un charret Fare un Cart Punto To Diciamo Lowercase Ad esempio In modo che Abbiamo soltanto Le minuscole O To Uppercase Se preferiamo Le maiuscole E quindi A quel punto La chiave Non diventa Il primo carattere Ma diventa Il primo carattere Convertito In maiuscole Quindi Non ho più Un misto Qui Ad esempio Vedete che Alla fine Nel W Ho un ordinamento Ordinamento Che però Mette prima Le maiuscole E dopo Le minuscole Se volesse avere Un ordinamento Che Non tiene conto Di maiuscole E minuscole Qui Dovrei avere Un'operazione Un Scusate Un comparatore Che ignori Maiuscole E minuscole Per cui Ad esempio Potrei avere P1 Virgola P2 Le due parole Freccia P1 Punto Compare To In Nor Case P2 Quindi faccio Un confronto Tra le parole Usando il metodo Compare To In Nor Case Che è già Predefinito Dentro Le string A questo Punto Risultato E questo In cui Vedete Che c'è W A Prima E W H Dopo Anche se L'iniziale È Una Una Maiuscola Ora Allora, quanto è complicato scrivere questa espressione utilizzando una serie di cicli, quindi senza utilizzare gli stream, potrebbe essere abbastanza complicato. Direi che l'argomento è abbastanza denso, vi lascio come esercizio provare a scrivere quest'ultima espressione, quindi abbastanza lunga, utilizzando cicli e le classi del frame o delle collezioni senza utilizzare gli stream. Quanto diventa più complicato da scrivere e quanto diventa più complicato da poi comprendere. Quindi, a questo punto, la lezione di oggi la chiuderei qua. Provate a fare questo esercizio di riscrittura per valutare voi direttamente quanto è più complicato. Ovviamente, se ci sono altre domande, sono ancora a disposizione per un po' per rispondere a dubbi o altro. Vi pubblico ovviamente il codice tra un attimo. Grazie. 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 Team commit. Ok, dovrebbe essere sul repository, quindi potete partire da questo e provare a fare voi questo esercizio. Ok, se non ci sono domande direi che la lezione di oggi la terminiamo qua. Allora, domanda, come funzionano le map.entry? Ok, andiamo a prendere, magari non questo che è complicato come contenit, ma sì anche questo, per iniziare string è una mappa. Che cosa c'è dentro una mappa? Gli elementi che stanno dentro una mappa, abbiamo detto, sono copie, chiave e valore. Questa copia è quello che si chiama una entry. Quello che posso fare, ve lo metto qui, ve lo separo con un commento così non interferisce con il resto, sono le entry. Io volendo posso andare a prendere da una mappa l'insieme di tutte le entry. Quindi posso fare un set, map.entry, carter e string. Questi sono gli entries che stanno dentro il pair iniziale punto str punto str punto entr set. set è un'interfaccia che dobbiamo importare, ovviamente. Quindi, che cosa abbiamo? Qui dentro abbiamo un insieme di tutte le entry. Le entry che cosa sono? sono oggetti che hanno due componenti. La chiave è il valore. Per cui, ad esempio, posso fare un for map entry, quindi qui un insieme di entry che stanno nelle map e in entries. e posso andare, ad esempio, a stampare println chiave e vado a mettere e.getkey. In questo modo vado semplicemente a stampare tutte le chiavi. Volendo posso ancora andare ad aggiungere un freccia e vado a mettere e.get value. e ottengo sostanzialmente, vedete, chiave y, freccia, il valore. Se vogliamo evitare di avere la stampa di tutto, possiamo anche andare a dire punto lente, così stampiamo semplicemente chiave con lunghezza e andiamo a mettere semplicemente la lunghezza della stringa. Quindi ce l'abbiamo un po' più compatta e così evitiamo di replicare esattamente quello che era l'opo di prima. Quindi a questo punto abbiamo y, una chiave con lunghezza 6, quindi abbiamo 6 caratteri. w, una chiave con lunghezza 87. E quindi in questo modo noi possiamo andare, volendo, a scandire tutti gli elementi che stanno dentro una mappa andando a prendere le entry. Il vantaggio delle entry è che noi abbiamo contemporaneamente dentro all'oggetto entry sia la chiave che il valore. perché in alternativa io posso avere il key set, quindi ho solo le chiavi, oppure values e ho soltanto i valori. La cosa da ricordare è che sia nel caso delle chiavi, sia nel caso delle entry, sia nel caso dei valori, quindi i metodi key set, entry set e values, io ho gli elementi che nel caso delle mappe ordinarie sono in un ordine random. Nel caso delle sorted map, ovvero quando andiamo a utilizzare tree map, sono tutti ordinati in base alla chiave. Per cui io, per l'appunto, posso andare a utilizzare questo per fare una visita. Non mi ricordo, forse in una delle domande che c'erano su Slack, ho visto un frammento di codice che andava a visitare il contenuto di una mappa volendo semplicemente stampare i valori, ma andando a prendere il key set, poi andando a iterare sulle chiavi, facendo un'operazione di ghetto, tenendo il valore. Ecco, questo è, sebbene funzionalmente corretto, uno spreco. Se a me interessano soltanto i valori, ovvero la parte secondaria di value, posso semplicemente fare un ciclo andando a iterare non sulle chiavi per poi recuperare i valori, ma direttamente sui valori. C'è un metodo che si chiama values che mi dà direttamente la parte di valore di tutte le entry. Se invece mi interessano tutte e due, posso direttamente utilizzare le entry, perché ce li ho entrambi e quindi posso fare una stampa come quella che vediamo qua, dove ho la chiave che ho ottenuto tramite getKey e, scusate, non la chiave ma il valore, e fatemelo riscrivere così almeno abbiamo l'output che è corretto, quindi ho la chiave e il valore con una certa lunghezza, quindi la stringa con una certa lunghezza. Sulle slide e poi nella lezione che ho fatto su quest'ultima parte dei collettori predefiniti, ci sono esempi anche un po' più sofisticati, dove vado a prendere l'entry set e vado ad operare su quello. Perfetto. Altre domande o richieste di chiarimento? Benissimo. Allora, non essendoci altre domande direi che chiudiamo la lezione qui. Allora, queste cose, come vi dicevo, non sono necessarie per il laboratorio, l'estensione che vi è stata data venerdì, anche se volendo possono essere utilizzate. Il laboratorio successivo, quindi quello che poi verrà presentato poi venerdì, invece sarà poi concentrato su questo. Quindi ci sarà il prossimo laboratorio sugli stream, e ci torneremo poi nelle prossime lezioni per vedere magari qualche aspetto un po' più particolare. Perfetto. Allora, chiudiamo qui. Buona giornata a tutti, buon lavoro. Scusate, venerdì ci sarà il prossimo laboratorio, e noi invece ci vediamo poi per la lezione di lunedì. Prima di lunedì comunque vi pubblico qualche altra, direi un'altra lezione, su argomenti un po' più specifici. Buona giornata e buon proseguimento di settimana.